Musica Benvenuti al consueto appuntamento con 7 giorni di cronaca. Il Presidente della Regione Donato Toma ha segnato le deleghe, resta invece ancora aperta la partita per la Presidenza del Consiglio regionale. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il Presidente della Regione Donato Toma ha sciolto le riserve e ha ufficializzato l'assegnazione delle deleghe ai quattro assessori. A Nicola Cavalieri di Forza Italia andranno politiche agricole e agroalimentari, programmazione forestale, sviluppo rurale, tutela dell'ambiente, caccia e pesca, compresa quella produttiva, lavori pubblici, viabilità, infrastrutture, marketing territoriale. Roberto Di Baggio, pure lui eletto nella lista di Forza Italia, si occuperà di politiche abitative, urbanistiche e politiche del territorio, trasporti e patrimonio. Vincenzo Cotugno di Orgoglio Molise si occuperà di turismo, cultura e sport, molisani nel mondo, impiantistica sportiva. A Cotugno è stata affidata anche la carica di Vice Presidente della Giunta regionale. A Vincenzo Oniro, Popolari per l'Italia, politiche dello sviluppo economico, internazionalizzazione delle imprese, accesso al credito, politiche per le risorse umane, istruzione, università, ricerca e innovazione. Toma Terra per sé, programmazione e politiche comunitarie, agenzie partecipate, bilancio e finanze, comunicazione, politiche giovanili, cooperazione internazionale, enti locali, politiche energetiche sostenibili, ricostruzione e protezione civile, riforme istituzionali, sanità, politiche per il lavoro e formazione professionale. Resta infine la Corsa 3 per la Presidenza del Consiglio regionale. Oltre alla preannunciata candidatura di Aida Romagnolo per la Lega, in Corsa ci sono Quintino Pallante per Fratelli d'Italia e Salvatore Micone per l'Udc. Solo questo passaggio in calendario per il prossimo 21 maggio restano bloccati anche i giochi per il Quinto Assessore. Oltre al ruolo di Quinto Assessore a quello di Presidente del Consiglio resta da definire anche quello del Sottosegretario della Presidenza della Giunta, un ruolo che Toma intende valorizzare poiché punto di contatto tra la stessa Presidenza, tra la Giunta e il Consiglio regionale. La figura di nuovo conio è tuttavia da sperimentare e da riempire di contenuti non essendo mai stata varata in precedenza. Dunque, il 21 maggio è l'esordio del nuovo Consiglio regionale. Torniamo adesso all'analisi del voto del 22 aprile, dal quale, al di là dei numeri, emergono anche aspetti meno evidenti. Sentiamo il servizio del nostro direttore, Manuela Petescia. Il voto del 22 aprile racconta molte cose di questa nostra terra. Riflessioni nascoste dietro i numeri, le riconferme, le stroncature. Tanto per cominciare, la gente del Molise non ha creduto alla proposta del Movimento 5 Stelle. A meno di voler ridurre a clientelismo ricatti e fucili puntati alla schiena, il voto espresso da 73 mila cittadini che hanno scelto Donato Toma. La realtà è che la proposta a 5 Stelle non ha convinto l'elettorato molisano, malgrado le piazze colme di gente, colme di entusiasmo, colme di speranze. La vaghezza dei temi elettorali e del programma, l'aggressività del popolo pentastellato che troppe volte antepone al dialogo l'insulto fine a se stesso, la carenza di spessore politico del candidato scelto Andrea Greco. Insomma, tutti questi fattori, nel loro complesso, hanno prodotto la clamorosa battuta d'arresto dei 5 Stelle in Molise. Per quanto il risultato sia assolutamente sorprendente, insomma, è un po' come dire in linea su quello che sta accadendo a livello nazionale, però devo registrare, altrimenti sarei bugiardo e saremmo bugiardi, che comunque, ahimè, abbiamo perso. Ma i numeri del 22 aprile ci raccontano anche un'altra storia, quella di un Molise stanco delle conflittualità violente che hanno caratterizzato la politica degli ultimi anni. Un Molise stanco e per nulla condizionato dalla denigrazione degli avversari, se solo si rifletta sui risultati ottenuti proprio da chi è stato oggetto delle più rumorose campagne scandalistiche. I 4.000 voti di Vittorino Facciolla, i 3.300 voti di Vincenzo Cotugno, il cognato della sanità privata, si fa per dire, i 2.200 voti di Michele Iorio, Vincenzo Niro o Micaela Fanelli, fino ai 1.738 voti guadagnati da Salvatore Micone, additato da più parti come simbolo, icona del trasformismo. Ad eccezione del governatore Frattura, che sarà ricordato come il peggiore presidente della storia del Molise e che non ha voluto offrire al popolo la soddisfazione di bocciarlo sonoramente alle urne, e ad eccezione di Patrizia Manzo, prima eletta e più votata in assoluto nella storia delle elezioni regionali, i cittadini hanno dunque riconfermato in massa molti dei soliti volti e molti dei soliti nomi. Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. Ma sacra è la volontà popolare e con sacro rispetto va riconosciuta. A Donato Toma spetta dunque il compito, non facile, di cancellare l'amara esperienza degli ultimi anni nel più breve tempo possibile, restituendo la politica molisana al suo corso naturale, quello che coincide esclusivamente con l'interesse dei cittadini. Ma l'ultima tornata elettorale ci racconta anche un'altra storia e questa volta coinvolge la nostra azienda. Quella diretta del 22 aprile ha riconfermato infatti ove ve ne fosse stato bisogno la grandissima qualità dell'informazione di Telemolise e la potenza della sua struttura, con lo straordinario numero di telespettatori, l'eccezionale numero di contatti in streaming, le migliaia di condivisioni della sua pagina Facebook, le decine di migliaia di commenti registrati, cifre che farebbero impallidire perfino il blog di Beppe Grillo, le decine di migliaia di molisani nel mondo in contatto con la propria terra solo grazie alla nostra TV. Sono numeri strepitosi, lasciatecelo dire, numeri accompagnati da encomi ricevuti da ogni parte d'Italia, numeri mantenuti, anzi, raddoppiati grazie alla professionalità del nostro editore, dei giornalisti e dei tecnici, con immane sacrificio e nonostante l'azienda fosse stata messa a dura prova, nei cinque anni di ostilità e di persecuzioni, targate Paolo Di Laura Frattura. Grande serata di Telemolise, tra l'altro. Grande serata? Di Telemolise, tutti collegati con Telemolise. Eh certo. Ma stai pure lì? No. Cioè, hai fatto la mano del Telemolise. Sei diventato tu da Milano del Molise. No, no. Lascia spazio. Cioè, l'originale da Milano del Molise. Ok, certo, certo. La cronaca alla procura di Isernia ha scoperto una truffa da centinaia di milioni di euro ai danni dello Stato. La finanza ha sequestrato beni in Molise e in Abruzzo, tra e finora le persone indagate. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Nelle ultime ore, gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato beni immobili e titoli di credito per 2 milioni di euro nelle province di Isernia, Campobasso e Chieti. È solo il primo atto di un'indagine coordinata dalla procura esernina, ma che abbraccia tutto il territorio nazionale, che ha permesso di scoprire una serie di truffe ai danni dello Stato per centinaia di milioni di euro. Per non compromettere l'esito di questa inchiesta, il procuratore capo Paolo Albano preferisce mantenere il più assoluto riservo, ma ha anche lasciato intendere che nel giro di pochi giorni potrebbero esserci altre importanti novità. Per ora si sa solo che sono stati emessi tre avvisi di garanzia nei confronti di due imprenditori e un professionista. Non sono molisani, anche se i loro interessi abbracciano anche la nostra regione. La mente della truffa è un imprenditore umbro, già noto alle forze dell'ordine per reati tributari, societari, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e trasferimento illecito di valori. A dare lo spunto alla procura di Isernia, un raggiro ai danni dei soci di una società per azioni. In pratica, attraverso documenti bancari falsi, titoli di credito senza copertura e particolari transazioni, uno degli indagati è riuscito ad acquisire l'intero capitale sociale e l'amministrazione unica della società, estromettendo i soci dalla piena titolarità delle quote societarie. Ma scavando tra i documenti, le indagini delle Fiamme Gialle hanno assunto dimensioni impreviste, finendo per coinvolgere imprenditori e intermediari finanziari operanti in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia ed Emilia Romagna. L'impressione è che tre avvisi di garanzia e i sequestri rappresentino solo la minima parte di un'indagine che sembra promettere sviluppi clamorosi. Assalto con esplosivo nella notte durante la settimana al Bancomat del Monte dei Paschi di Siena a San Martino in Pensilis, Fabrizio Occhionero. Un boato nella notte in via Marina, la strada principale che porta al centro di San Martino in Pensilis. L'esplosione al Bancomat del Monte dei Paschi di Siena è avvenuta intorno alle due e mezza. Ancora una volta un furto compiuto con la tecnica della marmotta, un contenitore sottile di ferro riempito di esplosivo, grande quanto le aperture degli sportelli, inserito con l'aiuto di una pala all'interno del Bancomat per poi andare sotto, frase in codice per indicare l'innesco e poi l'esplosione. Il furto è riuscito e ha fruttato poche migliaia di euro, considerando anche il giorno e mezzo alla settimana. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Larino, coordinati dal Maggiore Raffaele Iacuzio e della stazione di San Martino in Pensilis. Indagini a tutto campo per fare chiarezza sul colpo con esplosivo che rinnova in sostanza le modalità di altri messi a segno in passato sulla costa e nelle aree più interne del Basso Molise, come un bancomat e lo sportello delle poste a Santa Croce di Magliano. I militari hanno effettuato i rilievi e verificato i filmati delle telecamere a circuito chiuso piazzate all'esterno e negli uffici della filiale. Si cercano possibili testimoni. L'esplosione non ha sventrato solo la struttura dedicata ai prelievi, ma ha causato ingenti danni ai locali interessati due anni fa anche da una rapina a mano armata. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'auto utilizzata dalla banda di professionisti per la fuga in un'area al confine con la provincia di Foggia, collegata da una fitta rete anche di strade interpoderali. Un territorio vasto, non nuovo, episodi di questo tipo che si prepara ad affrontare l'estate e il rischio di nuove incursioni. Video sorveglianza. 47 comuni della provincia di Campobasso hanno sottoscritto un accordo in prefettura per installare le telecamere di video sorveglianza nei territori di loro competenza. Sentiamo. Campomarino, Trivento, Montenero di Bisaccia, Vinchiaturo, Petacciato, Ferrazzano e altri comuni della provincia di Campobasso in tutto 48. I sindaci hanno firmato insieme al prefetto Maria Guia Federico e davanti ai vertici di polizia, guardia di finanza e carabinieri patti per la sicurezza per dotare i propri territori di una rete di video sorveglianza. È un finanziamento nazionale che quindi vede impegnate tutte le prefetture italiane e ovviamente tutti i comuni che hanno ritenuto di aderire a questo patto della sicurezza. Gli accordi firmati sono indispensabili per avere accesso ai finanziamenti a livello nazionale previsti dal decreto legge sulla sicurezza nelle città e da un decreto del Ministero dell'Interno insieme a quello delle economie e finanze. 7 milioni di euro a disposizione per il 2017, 15 milioni per il 2018 e altri 15 per il 2019. Dopo la sottoscrizione a una specifica attività istruttoria della prefettura, che dovrà avere tutto entro il 30 giugno, i comuni presenteranno apposita istanza al Ministero dell'Interno per concorrere e avere le risorse. Questo è l'inizio della procedura, i comuni poi predisporranno delle apposite domande e anche dei progetti e questi progetti oltre a passare dal vaglio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale verranno poi esaminati dal Ministero dell'Interno, verrà stilata una graduatoria e quindi si procederà al finanziamento dei progetti che ovviamente rientreranno nella graduatoria. Voglio anche ricordare che con la Regione Molise è in vigore attualmente un patto per la sicurezza che ha comportato già il finanziamento dell'installazione di telecamere nei comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, quindi noi speriamo che la Regione Molise voglia continuare su questo percorso e magari finanziare anche progetti che riguardino comuni più piccoli. Il questore Caggeggi, il comandante regionale della Guardia di Finanza Appella e il comandante della Legione Abruzzo e Molise Sirimarco hanno sottolineato che la videosorveglianza è un valore aggiunto per la sicurezza sul territorio ed è indispensabile la sinergia di intenti. È un messaggio di sicurezza partecipata che il Ministero dell'Interno attraverso queste occasioni vuole lanciare, come ho detto, una sicurezza che deve vedere sindaci e prefetto in prima linea. Consiglio Comunale di Termoli è finito in bagarre con una pregiudiziale della maggioranza. Non è stato discusso l'argomento sul referendum sul progetto del tunnel scatenando critiche accuse da parte della minoranza. Il servizio. Consiglio Comunale di Termoli iniziato e finito nel giro di pochi minuti. Il primo punto all'ordine del giorno, quello sul referendum, non è stato neanche discusso. Veniva chiesta l'ammissibilità dei quesiti che propongono di revocare la delibera per il progetto di riqualificazione della città che prevede anche il tunnel. Ma in apertura di assisi a bloccare qualsiasi velleità di confronto ci ha pensato il consigliere di maggioranza Mario Orlando, che con una pregiudiziale ha sostenuto che non era possibile discutere dell'argomento in virtù del parere tecnico negativo espresso dal segretario generale Vito Tenore, secondo il quale nel bilancio approvato non ci sono somme destinate al referendum. La pregiudiziale è passata con 14 voti della maggioranza. La minoranza non ha partecipato al voto, ma in aula sono volate urle e accuse, con alcuni esponenti dell'opposizione che hanno abbandonato il Consiglio e convocato la stampa per una conferenza urgente. Un'onta ai cittadini non hanno avuto il coraggio di alzare la mano, il commento di Nick Di Michele, del Movimento 5 Stelle. Per l'ennesima volta questa democrazia degli anni 30, questo partito democratico degli anni 30 con tutti gli accoliti e amici, hanno dimostrato ancora una volta che non sono per niente a favore del benessere dei cittadini termolesi, anzi sono totalmente contro. È accaduto, è accaduto sotto le vostre telecamere, sotto i vostri occhi. È dell'ennesima riprova che questa amministrazione, l'amministrazione sbrocca in caduta libera, si sta appigliando, si sta attaccando solamente a quest'opera faraonica che io vi giuro bloccheremo in tutti i modi. Secondo Paolo Marinucci quello che è successo in Consiglio è stato un attacco alla democrazia, secondo Michele Marone invece il comportamento dell'amministrazione è la dimostrazione che hanno paura del referendum. È una maggioranza che non vuole il confronto, in parte complice e silente il commento di Daniele Paradisi, consigliere di Libera Termoli. Il segretario generale si è espresso con un parere che a nostro modo di vedere la vicenda era un parere che spettava al responsabile del settore finanza e non certo al segretario generale, primo punto. Tra l'altro poi il segretario generale si è impelagato in questioni e in attribuzioni che a nostro avviso e non solo a nostro avviso ma in base a quello che dice la legge non sono di competenza del segretario generale, bensì sono di competenza del Consiglio. Il sindaco Angelo Sbrocca dal canto suo rivendica l'impossibilità tecnica di procedere al referendum senza un piano economico, senza insomma le somme in bilancio. Credo che fosse obbligatoria la mozione che poi è stata mossa perché altrimenti avremmo adottato in positivo o in negativo una delibera senza copertura finanziaria e questo ovviamente non è possibile. I consiglieri hanno richiesto un consiglio d'urgenza e quindi che deve essere convocato secondo quelli che sono i termini stabiliti dal regolamento e quindi non si è potuto fare nulla di tutte quelle che sono le opere preliminari, attività preliminari, procedurali per far sì che il Consiglio potesse esprimere una valutazione piena sulla proposta deliberativa. Giallo a Palazzo San Francesco l'ex direttore generale di Molise Acqua e Giorgio Marone appena nominato dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Isernia lascerà il suo incarico non senza polemiche. Ci spiega tutto Enzo Di Gaetano. Giorgio Marone, 57 anni, ingegnere ex direttore generale di Molise Acqua e solo da qualche mese nominato dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Isernia quasi certamente antra via dal capologo Pentro. E non è una bella notizia per Isernia. Giorgio Marone in poco tempo aveva rimesso in funzione una macchina burocratica che non aveva mai brillato per velocità ed efficienza. Grazie alla sua esperienza e alle sue competenze aveva rivitalizzato il settore tecnico comunale di Isernia. A scatenare il finimondo a Palazzo San Francesco una delle sue ultime decisioni, la direttiva con cui ha fatto ruotare i funzionari, cosa peraltro prevista dalla legge anticorruzione. Non lo avesse mai fatto, è partita subito una reazione tesa a difendere competenze ma anche privilegi consolidati. Uno degli aspetti delle sue disposizioni, che ha più creato subbuglio, è stata la decisione di restituire parte delle sue funzioni precedenti a Roberto Bucci, un architetto. Si tratta del funzionario comunale coinvolto nell'inchiesta Larus, ma ancora non rinviato a giudizio e ancora non processato né tantomeno condannato. Apriti cielo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e si è scatenata una pesantissima polemica nei confronti di Marone, che senza dubbio sarà un decisionista, ma sicuramente ha voluto migliorare un servizio valorizzando le competenze professionali. Contro Marone sembra che si siano schierati i vertici burocratici e politici del Comune. Come finirà? Presto detto, Marone che nel frattempo ha vinto il concorso dal direttore generale dell'Acquedotto di Chieti non ha più motivi per restare a Isernia, nonostante qui viva la sua famiglia. Aveva chiesto il part-time al Comune per lavorare metà settimana a Chieti e metà a Isernia, ma per come si sono messe le cose è difficile che si possa ricucire. Intanto l'ingegnere ha preannunciato una conferenza stampa d'addio per il 31 maggio e sicuramente sarà una conferenza col botto. Svolta al porto di Termoli dove da giugno partiranno i lavori di dragaggio attesi da anni e da completare entro l'estate il servizio di Fabrizio Eccionero. Una situazione che si trascina da anni tra ritardi disagi, la richiesta di un intervento dal quale dipende il futuro dell'intera area e delle attività commerciali e turistiche. Il dragaggio del porto di Termoli sta per diventare realtà, tanto che sono iniziate le ultime operazioni necessarie prima di poter aprire il cantiere. Si tratta della ricerca di eventuali residui bellici nello specchio d'acqua interessato dall'intervento. Poi, come spiegato dal comandante della Capitaneria, Sirio Faè, si potrà partire con gli interventi definitivi. Comincerà sicuramente interessando i punti più sensibili, che sono quelli della canaletta d'ingresso del porto, dove c'è una maggiore limitazione all'ingresso delle navi. I lavori, terminate le fasi preliminari, potrebbero essere iniziati già nei primi giorni di giugno e prevedendo circa 100 giorni lavorativi, considerati anche però i giorni di possibile maltempo, è ipotizzabile che entro la fine del mese di settembre i lavori possano essere completati. Questo non comporterà disagi per quanto riguarda la navigazione marittima nel porto. Abbiamo già fatto una riunione preliminare di coordinamento, perché con apposita ordinanza disciplineremo anche le precedenze all'interno del porto, tra le navi impiegate nelle operazioni di lavorazione e le navi di linea, soprattutto quelle che collegano Termoli con le isole Tremiti. Se il progetto del dragaggio è alle battute finali, resta l'incertezza rispetto a un problema di non poco conto che permane ormai da settimane, quello della chiusura di una delle strade principali di accesso alla banchina al Molo Nord, dove arrivano i traghetti a causa delle infiltrazioni d'acqua che hanno in sostanza indebolito il collegamento al ridosso della scogliera. Per precauzione e per evitare il rischio di possibili cedimenti dell'asfalto, il traffico è stato vietato con tutte le conseguenze che ci sono e ci saranno in vista dell'estate, non solo per i pulmani delle migliaia di turisti che dovranno raggiungere le isole Tremiti, ma anche per gli operatori della marineria. Si aspetta un intervento straordinario da parte della Regione. Per il momento noi siamo in attesa di conoscere dalla Regione Molise, dal settore competente alla manutenzione delle aree portuali, siamo in attesa da parte loro di un intervento per il ripristino della viabilità. In questo caso i disagi sono apprezzabili perché lo sgrottamento che si è verificato limita la viabilità d'accesso verso le banchine dove imbarcano i turisti per le isole Tremiti. Il 3 giugno la sfilata dei misteri a Campobasso, intanto quest'anno il 3 dicembre ricorrono i 300 anni della nascita del creatore dei misteri, Paolo Saverio di Zinno, e per un anno ci saranno diversi appuntamenti organizzati e ci sarà anche la sfilata dei misteri a dicembre in via straordinaria. Sentiamo i dettagli di questo programma. Paolo Saverio di Zinno è l'artista campobassano più rappresentativo e l'autore degli ingegni plasmati, grazie a una resistente e flessibile lega metallica, i misteri che sfileranno il 3 giugno a Corpus Domini, ma è autore anche di pregevoli altre opere come Statue e Ligne, forte di una solida formazione a Napoli. Il 3 dicembre ricorrono i 300 anni della nascita dell'artista, uomo del suo tempo e della Campobasso del 1700. Per celebrare l'evento la diocesi ha proposto la creazione di un comitato promotore con comune, regione, direzione per i beni culturali, sovrintendenza, Iresmo, museo dei misteri, ufficio scolastico regionale. È stato creato un logo con la scritta 300 e la firma del di Zinno ed è in allestimento un sito www.300dizzinno.it. Diversi gli eventi approntati e che si stanno approntando dal 3 giugno di quest'anno al 23 giugno dell'anno prossimo. Una mostra il 26 maggio nel convento di San Giovanni dei Gelsi, dove sono conservate alcune statue dell'autore dei misteri. Visite guidate, possibilmente le domeniche per un anno, nelle chiese del centro storico, in edifici per conoscere le opere di Paolo Saverio di Zinno. Sculture, disegni non solo, ma anche attraverso di lui per scoprire Campobasso e la sua storia. Visite con guide specializzate prenotabili sul sito su cui verranno illustrati gli eventi. Ci saranno conferenze e convegni sul di Zinno scultore, sulla sua biografia, sulla Campobasso del Settecento, sui misteri e il Corpus Domini, sul rapporto Napoli-Campobasso e il coinvolgimento delle scuole con iniziative mirate, l'idea di far adottare ad ogni istituto della città una statua dello scultore. Ci saranno concerti. Il 2 dicembre, ha detto il sindaco Battista, la sfilata straordinaria dei misteri. Il tre altre celebrazioni giorno in cui nacque di Zinno una serie di eventi che sono un atto d'amore della città verso il suo più grande artista, un evento unico. Ha continuato sulla stessa linea anche Monsignor Bregantini. I misteri, ha detto il governatore Toma, sono patrimonio di tutti della cultura e spero presto patrimonio dell'UNESCO. La richiesta c'è, la sfilata dei misteri è in cima agli eventi che mi impegno a tutelare per creare una rete culturale, con l'andocciata di Agnone, le carrese e altre tradizioni per promuovere e valorizzare la nostra terra. La regione darà il suo apporto istituzionale agli eventi in programma a Campobasso, ha assicurato il presidente, che ha manifestato qualche perplessità sulla sfilata degli ingegni a dicembre, solo in considerazione del clima in città in quel periodo, ma ha comunque ribadito il suo sostegno e impegno totale per l'organizzazione e la riuscita dell'appuntamento e di tutte le iniziative di sicuro interesse e spessore, ha rimarcato. È tutto, termina qui anche l'appuntamento con 7 giorni di cronaca. Grazie per averci seguito, arrivederci.